Nasce a Sant'Arsenio il Nucleo Comunale di Protezione Civile, un gruppo di volontari che affiancherà l'amministrazione comunale e sarà al servizio della popolazione in caso di calamità, ma anche quando ci sarà il bisogno di gestire manifestazioni importanti per il Paese. Questa inaugurazione di questa nuova sede di protezione civile qui a Sant'Arsenio, ma la cosa più bella è quella che è nata da un gruppo di amici voluta fortemente da Alfonso Esposito come coordinatore e il vice coordinatore Giancarlo Senatore. È ovvio fare un doveroso e caloroso ringraziamento all'amministrazione comunale nella figura del dottor Donato Pica, il consigliere Bricella Andrea, il consigliere Capozzolo Rosario e ovviamente anche la minoranza nel Consiglio Comunale di Sant'Arsenio. Innanzitutto siamo una protezione civile praticamente dislocata sul proprio territorio, quindi praticamente sul comune di Sant'Arsenio e quindi chiaramente daremo il nostro supporto a 360 gradi per quello che possiamo, nonostante abbiamo fatto insieme ai nostri amici sia il primo corso base di livello, il primo livello e poi il corso BLSD come primo soccorso e poi come già hai ben precisato prima sono quasi 22 anni che comunque rivesto il ruolo di vigile del fuoco, quindi penso che più di questo forse possiamo fare anche di più sicuramente. Noi lavoriamo a 360 gradi per il popolo sant'Arsenese, come è già stato detto prima dal nostro collaboratore Bruno Mangieri. Questo è un gruppo che è nato ed è stato voluto fortemente dall'amministrazione comunale Pica, è un progetto che è partito giovane un anno fa. Stiamo lavorando, lo ripeto, a 360 gradi con tutte le difficoltà che stiamo avendo perché i fondi non ce ne sono, ci stiamo autofinanziando, a dire la verità per il momento. Speriamo che la regione Camari ci dia una mano a livello economico per affrontare le spese che saranno più grandi perché difficoltà nel paese ce ne sono. Diciamo pure a carattere critici ci sono molti punti in cui bisogna intervenire, stare attenti per le alluvioni e altre cose. Quindi punti critici ce ne sono, sono stati già individuati dall'amministrazione con il supporto del gruppo di protezione civile. Speriamo bene, noi ce la mettiamo tutta e ringrazio il gruppo perché è un gruppo meraviglioso e stiamo lavorando.